Il Bari torna in campo, ma di fronte non ci saranno semplici avversari Evidente l'infrazione del calciatore della TIA, quindi rete da annullare, questo si può dire senza timore di smentita Alassane che va a sinistra, parla lì indietro ancora per Gionatas che si tuffa, si tuffa No, calcio di rigore, io non posso credere ci sia un calcio di rigore qui, davvero scusate I due non si toccano neanche, stiamo raccontando qualcosa di inenarrabile Non si può concedere un calcio di rigore, intanto la rete, la rete purtroppo del Latina Ma è pazzesco concedere un calcio di rigore così Sono due errori pesantissimi, due gol regalati a Latina tra andate e ritorno A sei mesi di distanza i biancorossi ritrovano i pontini e si preparano a riscattare l'eliminazione beffa dei playoff Sabato 20 dicembre sarà di nuovo Bari Latina, a partire dalle 14.50 su Controradio